Ciao, parliamo di e-learning e dei due corsi che propongo, quello base e avanzato. Quale può essere il nocciolo della mia proposta? Sta nel fatto che l'e-learning non è un insieme di tecnologie da applicare e non è neanche una video lezione a distanza, non è niente di tutto questo. Fare didattica a distanza significa costruire una relazione all'interno di un ambiente. Certo, questo ambiente non è quello scolastico, non abbiamo un'aula, è un ambiente relativamente virtuale, ma con delle presenze che possono essere sincrone o asincrone, ma che ci sono e che vanno sostenute. Quindi è una relazione educativa quella che va costruita. E le tecnologie che noi utilizziamo, che possono essere appunto i sistemi Google, più tante altre per creare lezioni particolari, belle, interessanti, e per progettare dei learning plan di un certo tipo, beh, queste tecnologie devono piegarsi a determinate scelte, che sono scelte di tipo didattico e pedagogico. E questa è la questione. Ma c'è anche un altro aspetto che deve essere considerato, e cioè che l'e-learning è una risorsa, è una grande risorsa. Io insegno in ambienti learning degli anni 90 e ho inventato delle metodologie proprio per insegnare a distanza, che vengono normalmente applicate e che ho elaborato all'interno di master universitari, e che quindi, voglio dire, hanno anche una validità scientifica. Quindi recuperiamo l'importanza dell'insegnamento a distanza, ma recuperiamo le opportunità che l'insegnamento a distanza ci offre e mettiamo nella condizione gli insegnanti di appropriarsi veramente di questi strumenti e di essere soddisfatti nel loro lavoro.